Una condanna a morte. Questo è il loro territorio. Forse cercano i loro compagni. Merda, ora siamo entrambi nei guai. Dobbiamo andare da me. Dopo che vedranno cosa ho fatto, vorranno la mia pelle. E la tua. Ho un piano che potrebbe tirarci fuori da questo casino. Ah, ci siamo, casa dolce, casa. Dobbiamo parlare. Scendi dall'abbaglio. Vieni, da questa parte. Lo sai, quanto ho rischiato per salvarti. Non solo la mia vita, ma quella di tutti noi. Finora sono rimasto vivo stando fuori dai guai. L'averti salvato potrebbe aver cambiato tutto. Ecco cosa mi serve. Raggiungi l'insediamento di quei predoni e uccidili tutti. Chiaro e semplice. Nessuno deve restare vivo. Eccetto te. Eccetto te. Eccetto te. Usa pure uno dei miei ATV nel garage. E prendi la pistola e le scorte sul tavolo. Oh, e non avrai solo la mia gratitudine. Torna vivo e ti troverò un'ultima cosa. Quei predoni dovrebbero essere facili da abbattere. Almeno per te. Dicono che voi delle Arche siete speciali. Trova il loro nascondiglio e sistema la faccetta. Trova il loro nascondiglio e sistema la faccetta. Trova il loro nascondiglio e sistema la faccetta. Trova il loro nascondiglio e sistema la faccetta da parte. Trova unプależ o ALLOOOOOOOOOO Einging caso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Bel lavoro. Ora siamo un po' più al sicuro. Ti siamo davvero grati. Ed ecco per te quella corazza che ti avevo promesso, ma come vedi... ci sono nuovi problemi. Ascolta, l'insediamento è stato attaccato mentre eri... Un gruppo di predoni mai visti prima. Non hanno preso niente, sono venuti solo per uccidere. Abbiamo dei feriti e le scorte di medicinali sono quasi terminate. Ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Subito dopo la collina, oltre la strada, c'è un altro insediamento. Gente che sta molto per conto suo, ma sono amici e hanno ciò che ci serve. Dai questa lettera a Richter. Lui saprà cosa fare. Se mi aiuti ancora, farò in modo che il nostro meccanico ti assembli una buggy tutta tua. Grazie. Prima di andare, assicurati di aver tutto ciò che... Ti prego, fai in fretta con quelle scorte. Se ci assalgono ancora, ne avremo un gran bisogno. Grazie. 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 Grazie.